Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video per la serie Affitti Brevi in 30 giorni. Se non mi conosci, sono Ludovico Cianchetta-Vasquez, fondatore di B&B Academy, l'accademia di formazione più grande d'Europa per tutto quello che riguarda il mondo degli affitti brevi, ad investimento zero e non solo, sia che tu possegga un immobile di proprietà, sia che tu non abbia neanche le chiavi di casa tua. E oggi voglio parlarti di un tema importantissimo, una delle leggende metropolitane in assoluto più assurde che io abbia sentito, ovvero per svolgere il business degli affitti brevi devo avere il patentino d'agente immobiliare. Sbagliatissimo e in questo video ti spiego perché. Ho preparato una serie di appunti che andrò a leggere perché è anche difficile ricordarsi tutto quanto. Ho cercato di prendere tutte quelle osservazioni che negli ultimi anni mi hanno fatto, soprattutto quando ho iniziato ad insegnare questo business a appunto oltre 4.000 persone, le ho racchiuse queste osservazioni, queste domande che mi hanno fatto in un unico file. Cercherò di toccare tutti i punti approfondendoli di maniera tale che innanzitutto tu sia consapevole che no, non devi essere un agente immobiliare per fare questo business, al contrario gli agenti immobiliari sono dei nostri partner, delle persone che ci aiutano a guadagnare molto denaro in questo settore. E anche per smontare magari eventuali obiezioni che un proprietario di casa potrebbe farti dicendoti ad esempio, ah ma non sei agente immobiliare? No, non sono agente immobiliare perché è un lavoro completamente distinto. Premessa, l'agente immobiliare come ho detto poco fa non è un nostro nemico, non è un qualcuno che ci va contro, anzi in realtà è un nostro partner perché se avete le giuste competenze e sapete come approcciarli, in realtà diventano dei nostri cavalli di troia, passatemi il termine, per entrare ed acquisire tantissime case in questo mercato super florido. Basti pensare che all'incirca il 50% dei miei immobili, parliamo di oltre 100 immobili, sono stati acquisiti attraverso agenzia immobiliare. E tra le varie cose forse anche gli immobili più belli in assoluto che io ho acquisito, li ho acquisiti grazie degli agenti immobiliari, perché sono riuscito a spiegare loro quali sono i principali vantaggi di questo business, a rendere partecipi loro dei guadagni che vengono generati da questo business, che fortunatamente sono molto alti e quindi ci permette di dare una parte di questi guadagni appunto agli agenti immobiliari e quindi siamo diventati una macchina da lavoro perfetta dove collaboriamo. Gli agenti immobiliari in Italia sono centinaia di migliaia, quindi non è che Ludovico ha preso tutti gli agenti immobiliari d'Italia e li ha saturati, tra virgolette, li ha monopolizzati, no, io lavoro con qualche decina di agenti immobiliari, là fuori è pieno di agenti con i quali potete collaborare anche voi. Adesso poi, tra l'altro, siamo nel canale Lingua Italiana, io ho community e accademie di formazione anche in altre lingue, in portoghese, in inglese, in spagnolo, e questo è un concetto che si applica ovunque nel mondo, anche in Svizzera, anche in Francia, anche in Spagna, Argentina, Stati Uniti, che più ne ha più ne metta. Quindi non è un qualcosa all'italiana, è un qualcosa di comprovato e testato a livello mondiale da me e da migliaia di studenti che fanno parte delle mie community. Ma lo scopo del video di oggi non è dire quanto è bello lavorare con gli agenti immobiliari. Come vi ho detto poc'anzi, è il spiegarvi il perché non c'è bisogno di fare l'agente immobiliare per fare questo business. Anche perché alcuni commercialisti potrebbero dirvi no, devi avere il patentino d'agente immobiliare e rischiare così di compromettere una vostra acquisizione. Prima di iniziare ad entrare nello specifico, voglio informarti che qua nella descrizione di questo video YouTube trovi due regali che ho per te, oltre a questo meraviglioso video che è già un regalo di per sé. E sono un ebook completamente gratuito dove ti spiego i primi passi da fare per entrare in questo business e in secondo luogo la possibilità di prenotare una consulenza gratuita con il mio team per capire se nella tua zona c'è effettivamente la possibilità di fare questo business in maniera profittevole e se è un qualcosa che ti si addice. Perché ci sta che a qualcuno effettivamente questo lavoro possa non andare a genio. Magari sei iper introverso, non ti piace parlare con nessuno, ti piace stare nella tua cameretta dalla mattina alla sera, forse questo non è un lavoro per te. Al contrario, se comunque due parole le riesci a dire in pubblico, al contrario, se sei una persona molto ambiziosa, vuoi guadagnare tanti soldi, non ti spaventa magari il pensare di iniziare a ragionare come un grande imprenditore che guadagna decine di migliaia di euro al mese, bene, queste cose ovviamente possiamo capirle in consulenza con il mio team. Così come magari stai cercando semplicemente un business che ti faccia guadagnare 1000 euro al mese in più, questa è un'altra opzione ad esempio che si può percorrere con questo business. Quindi il mio consiglio è prenotate questa consulenza, è gratis, non vi costa nulla, e capite alla fine di questa chiamata se è una cosa che fa per voi o meno, altrimenti tornate alla vostra vita di tutti i giorni. A me questo business ha cambiato la vita, l'ho fatto anche con mia madre, la mia ragazza, anche la mia ex ragazza, se vogliamo essere onesti, è un business che ha cambiato veramente la vita di tantissime persone attorno a me, oltre alla mia community che è composta da migliaia di persone da tutto il mondo. Comunque, passiamo al video in sé per sé. Tutti sappiamo che per fare l'agente immobiliare o in generale per essere un intermediario all'interno di questo settore serve una licenza specifica. Non è nulla di trascendentale avere il patentino da agente immobiliare, basta studiare e fare un esame di abilitazione, però comunque possiamo reputarlo uno scoglio, ma anche no perché in realtà non abbiamo bisogno di questo patentino. Ci sono purtroppo tante aziende o persone che vogliono a tutti i costi vendervi licenze e patentini per fare il property manager, spesso sono avvocati che puntano al fatto di spaventarvi e farvi paura per dirvi no, devi avere il patentino, e non c'è nulla di più sbagliato, quindi non fatevi fregare. Se volete fare il patentino è perché volete fare l'intermediazione immobiliare, intesa come rappresenta un cliente per la compravendita di un immobile, ma se dovete fare gestione di affitti brevi non c'è bisogno di nessun tipo di patentino, men che meno da agente immobiliare. Ovviamente se in futuro diventerà necessario avere un patentino non mancheremo di aggiornarvi, ma è veramente difficile, non l'hanno fatto fino ad oggi, non ha nessun tipo di senso logico che venga fatto in futuro. E posso dirlo con certezza perché comunque su 4.000 studenti la quasi totalità di questi sono partiti con questo business e ciò significa che sono state fatte 4.000 dichiarazioni di erediti, decine di migliaia di contratti di locazione, commercialisti dei proprietari che si sono interfacciati con i nostri studenti. Insomma abbiamo avviato una macchina, abbiamo creato veramente una rivoluzione nel settore lavorativo in Italia e ogni qualvolta è stata fatta questa obiezione, abbiamo portato la nostra documentazione, che ovviamente è trovata all'interno di B&B Academy, e nessuno ha mai detto che ciò fosse sbagliato. Quindi tutti hanno confermato che effettivamente questo business si può fare senza patentino. E basti pensare che al contrario dentro B&B Academy il 99% delle persone non è agente immobiliare, perché chiaro se sei agente immobiliare magari puoi partire leggermente avvantaggiato, ma abbiamo tanti casi studio, uno in particolare è quello di Simone, che era agente immobiliare e ha lasciato la professione di agente immobiliare per dedicarsi solo ed esclusivamente all'affitto breve. Perché? Perché questo è un business molto più profittevole, dove hai molti meno obblighi e meno concorrenza. Vi basti pensare quante agenzie immobiliari ci sono nella vostra città. Se siete in una grande città parliamo di centinaia, se non migliaia di agenzie immobiliari. Invece quante agenzie di affitti brevi esistono? Probabilmente 0, 1 o 2, perché le agenzie di affitti brevi praticamente non esistono. Quindi capite che è un mercato che ha ancora tantissimo margine per essere sviluppato. E oltre al fatto che la concorrenza è 100.000 volte minore, il grande vantaggio che ha ad esempio fatto decidere a Simone, ma anche a tanti altri agenti immobiliari che sono entrati in B&B Academy, di lasciare questa professione, è che di norma l'agente immobiliare deve continuamente trovare nuovi affari. Cioè io prendo una casa, riesco a venderla, mi intasco la provvigione, è finita lì. Devo sempre trovare il nuovo affare, devo sempre trovare la nuova casa da acquisire, la nuova cliente al quale vendere. Quindi è un continuo rincorrere i soldi. Al contrario, con l'affitto breve, tu puoi tranquillamente acquisire una, due, tre case e non è che devi sempre trovare la nuova casa perché finisce lì. No, la casa rimane quella, la metti online, le prenotazioni arrivano in automatico da Airbnb e Booking che ci pensano loro a fare tutto il marketing e a trovarti i clienti e quindi tu puoi letteralmente sederti, sdraiarti, dimenticarti di queste case, automatizzarle e guadagnare in maniera passiva e praticamente automatica. Mentre ripeto, con la compravendita di immobili, una volta venduta la casa, voi dovete sempre trovarne un'altra, 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 un'altra. Io ho case da sei, sette anni che sono ancora lì, che mi fanno soldi. Mentre come agente immobiliare questa cosa sarebbe letteralmente impossibile. E un'altra leggenda immobiliare è pensare che coloro che sono agenti immobiliari fanno affitti brevi. Assolutamente no. Meno dell'1% degli agenti immobiliari fa affitti brevi e al contrario, consapevoli che un business completamente diverso si affidano a noi, property manager certificati, quindi non dal primo che passa, ma solo da property manager certificati, per segnalarci immobili laddove, ad esempio, un proprietario voglia prendere appunto il suo immobile e metterlo in affitti brevi. E perché, per farvi un esempio classico, un agente immobiliare dovrebbe voler collaborare con noi e non farselo da solo? Innanzitutto indole, non ha esperienza, non ha formazione e rischia anche di sembrare un tuttologo, perché se l'agente immobiliare fa anche affitti brevi il cliente potrebbe dire scusa ma allora non sei bravo a fare nessuno dei due se fai due cose. E soprattutto perché noi aiutiamo gli agenti immobiliari a vendere più immobili, perché prima potevano vendere una casa dicendo questa è una bella casa di 100 metri quadri finita là. Collaborando con noi possiamo realizzarli delle ricerche di mercato certificate utilizzando software come Bedly Go e quindi un proprietario non sta più vendendo una casa ma sta vendendo una casa con una ricerca di mercato che dimostra che quella casa, ad esempio, può fare 100.000 euro all'anno di incassi. Mentre prima potevano parlare praticamente solo di affitto classico che in media ti fa guadagnare la metà rispetto ad un affitto breve. Ed ecco perché gli agenti immobiliari ci adorano ecco perché è un business completamente diverso ed ecco perché collaborano con noi perché grazie a noi possono vendere più case e come dicevo prima circa il 50% degli immobili che io ho acquisito li ho acquisiti proprio così sfruttando delle ricerche di mercato che hanno permesso alla gente immobiliare di vendere l'immobile con più facilità e dopo averlo venduto è entrato direttamente in gestione a me e quindi c'è stato anche un doppio guadagno perché ho preso anche una diciamo segnalazione una provvigione per aver aiutato l'agente immobiliare a vendere l'immobile e in più ogni mese io guadagno da quell'immobile la mia provvigione da property manager che può arrivare sino al 40% e se parliamo di immobili invece da darci in subloccazione non ve lo dico neanche quello è un altro business incredibile da fare in collaborazione con agenti immobiliari perché perché l'agente immobiliare non deve neanche fare le foto professionali non deve pubblicarli sui portali eccetera 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 praticamente appena prendono le chiavi della casa la prima cosa che fanno è mostrarlo a noi property manager certificati e dopo aver visto l'immobile noi diciamo subito sì lo voglio o no non lo voglio se non lo vogliamo lo pubblicano e fanno la solita tiritera che fanno di solito ma adesso non devono neanche più pubblicizzare l'immobile perché sanno già che molto probabilmente lo acquisiremo noi appunto in property management o in subloccazione a questo punto ti starei chiedendo Ludovico ma qual è la legge che regolamenta effettivamente il fatto che io non devo essere agente immobiliare beh puoi accontentarti e fidarti di quello che ti sto dicendo oppure se vuoi una spiegazione precisa con riferimenti a legge e quant'altro ovviamente lo spieghiamo dentro B&B Academy la community ti ricordo più grande d'Europa per tutto quello che riguarda gli affitti brevi per questo video è tutto iscriviti al canale metti un bel mi piace non dimenticarti dei due regali che ho preparato qua direttamente nella descrizione di YouTube un ebook e una consulenza gratuita da Ludovico Cianchetta Vasquez fondatore di B&B Academy è tutto ci vediamo nel prossimo video Grazie a tutti